mister giordano fa male perdere diciamo nei tempi nel tempo di recupero a un minuto dalla fine sì era stata una partita abbastanza equilibrata con occasioni da entrambe le parti la poteva sbloccare solo un episodio brutto perderlo all'ultimo tiro della partita il calcio è questo avete fatto una buona partita con tante occasioni in una di queste l'arbitro si è messo davanti forse quella palla era indirizzata in rete oggi è capitato a noi speriamo che possa ritornarci il favore contro più avanti il campionato del lingua glossa quest'anno come sarà o come sperate che sia il lingua glossa è una neopromossa è una squadra nuova sta iniziando col piglio giusto perché ha vinto la prima partita oggi ha fatto una buona partita sul campo di una squadra che da diversi anni nella categoria e quindi vuole stabilirsi tranquillamente nella categoria per poi dire la sua in un progetto futuro come casalveccio anche il lingua glossa un buon tifo che segue la squadra e questo fa bene al calcio ed è un tifo anche corretto quindi si si sta tornando il tifo al campo perché fa fa sempre la differenza rincorre ragazzi e poi sono tutti amici dei ragazzi che giocano e quindi è sempre una una nota positiva del calcio nostrano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti